Il quartiere Cristola, una palazzina di dieci appartamenti, è vuota completamente, ed è allen. Appunto, questi qua sono allen, no? Quindi sicuramente c'è del lavoro da fare sul quartiere, anche da questo punto di vista. No, per il resto, appunto, noi abbiamo cercato di creare un percorso con tante rappresentanze. Oggi sono state invitate tutte quelle che fanno parte di quel percorso, quelle citate anche da Gianpaolo. Scelte di ognuno, venire o meno, poi c'è la pioggia. Però, se vi interessa allacciarvi alla questione locale, potete fare 5 minuti di presentazione, e poi, o Francesca o Matteo, comunque, ci possono delineare meglio, con anche dei dati. Se potete dirci, come volete. Eh, fai presentazione così anche noi, magari chi è arrivato dopo capisce. Dici tu come è nato il comitato di abitare in via Padua? Sei uno dei membri di Padua e i fondatori. Sì, vabbè. Sì, vabbè.